Io non sarò tranquillo fino a quando non state... per questo io cercherò di lavorare al massimo anche sulle mie convinzioni, le convinzioni sui giuratori che abbiamo, ce l'ho, io l'ho fatto sempre capire, sempre darà bene un giorno, dopo di lavorarci ancora di più, perché per un mentore c'è vederci la qualità umana, il tattico e tecnica di questo gruppo a un altissimo livello, cercherò di lavorarci fermissimo per mantenerli. Il ministro Salve, complimenti, il Consigliere ci ha detto che il Milan ha perso la partita a centrocampo e chiedo qual è, secondo me, un aspetto determinante? Credo la nostra qualità maggiore e che individualmente capiamo la nostra identità comunale. Grazie. Grazie. Grazie.